buongiorno ragazzi ragazzi oggi siamo ritornati qui con un nuovo video questo video si tratta di un video allora non parlo basta più tanto levati l'occhio non parlo basta per il campione tiriamo il pacco allora abbiamo fatto un grandissimo acquisto sul sito lightbox che ci piaccia di natale e poi è una cosa un po non normale e poi vi lasciamo più scegliere le tue azioni giù nell'info box beh cosa stai dicendo? niente ho fatto tutto quello che stai dicendo ok oh oh no a tu e allora ora apriamo la prima cosa tadaaa questi sono i cappellini allora questi sono i cappellini allora questi sono i cappellini tipo di renna però si sono i cappellini sono la renna che si dentro dentro nere e poi è tutta rossa e poi tutto ok allora spiego meglio io perchè lo leggo il cappellino no dai allora questo cappellino e c'è una bottina c'è la renna così con queste orecchie e dai con queste orecchie nere tutta rossa e apriamola Arisa lasceremmo lascia ascettate aschettate oooh Cos'è? Perchè? Cos'è? Ciao Peppiii Come state? Peppiii Siamo delle rene di Natale Guardate, però rosse Io non ho mai visto una rena rossa Se l'avete vista Magari mi ha dato una foto Ma non penso che esistiano 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 Quanto è carina Io me la metterò sicuramente a Natale Io vado Andiamo avanti con questo cappellino Molto bellissimo Molto bellissimo Riusci da una nuova parola Andiamo avanti Questo Allora 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 questo è un copricuscino Per un bollo Per mia mamma Però mia mamma non può pulire Allora Prima Vabbè lo trovo Questo è il copricuscino È un po' piccolino Forse ne metto Non copre più Uh È la sacca di papà Natale La sacca di papà Natale Questa dovrebbe essere un bollo E questa è papà Natale Ora vi spiego tutto quello che c'è Una rena Un uccellino Ah ecco Allora C'è la cerniera Voi aprite E mettete il cuscino Poi chiudete Scusa ma che pollice sono a spiegare per tu? Mi fa male pollice Chiudi tu che hai messo Ma il pollice la trovo Muoviti Un uccellino Un uccellino Allora mettete il cuscino E comunque è bellissimo Il divano Dittemi che questa non è la cosa più bella al mondo Poi state sul divano Guardate il cibo Un qualcosa di papà Natale E mettete la città E mettete la città Guardate il papà Natale Guardate il papà Natale Guardate il papà Natale Un uccellino di papà Natale Un uccellino di papà Natale Allora fa scritto Merry Christmas And Happy New Year Auguri e Buon Natale Auguri e Buon Natale Auguri e Buon Natale Auguri e Buon Natale Peccianovo Ok andiamo avanti E' un piccino Abbiamo comprato una di queste Che è un portabicchieri Un portabottiglia Un portabottiglia Scusatemi Per me è la calza Ma sono confusa Oh 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 yeah Allora è un contenitore di morbo 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 E' un po' di morbo 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 Stiamo facendo un altro gelo qua 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 Allora io devo restare da sola e continuare da sola Siamo alla ricerca di una bottiglia ragazzi Allora io me la sono ribellata davanti Sciacquetta Sono ribellata davanti con la brutta sciacquetta Sono ritornata Con Babbo Natale e un limoncello Guardate Che carino Giulia ti ho portato un regalo Oh che scherzo Limoncello per te Allora Chiudete Chiudete così E fate un regalo a qualcuno Dite ti ho regalato una bottiglia cara Ora poi Vado a regalare una bottiglia a una persona Vado a regalare il cielo Se voglio non fare niente vado a regalare la fede Eccomi Questa cosina me la sono ripresa perchè io non voglio regalare la roba Allora andiamo davanti ragazzi molto felice Allora io ho fatto le cose a mia sorella Perchè lei non se le merita Non se le merita Non se le merita Una altra cosa 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 Perchè Però se le metterebbe tutta la roba Tipo forchetta Coltello E così Dove si mette Qua Guardate Guarda che carina questa tovaglietta C'è Però io mi aspetta un po' di contatto Io sono Babbo Natale Mamma Natale No 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 Io cucino Prosa Ok questa è la cosina qua Poi Abbiamo questa cosina che non è di Natale Ve ne prendo giusto in quattro perchè davanti comunque sono più o meno la stessa Aspetta C'è più o meno la stessa No ma passino E dai ferma Un attimo Ora la prendi tu Grazie Due Due Ok Allora Allora Ora mi spiego io Dai per una volta non mi spiegavano Dai Ecco qua Questi sono le mignosse Che possono uscire Quelli grandi Quelli piccoli O poi questo qui Ora mi faccio Dei C'è tre Eccoli qua Questo Questo E questo Ecco qua Poi Ora li apro Lo apro Che è troppo carino Forse E' un mio carino Ecco Questo Questo è il mio Magista Questo Fa così Guardate 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 Questa è carino Ecco Questo Allora Questo è il mio Troppo carino Mi piace Però Non lo sappiamo Guardate Guardate Ecco Guardate Aspettate No Guardate Pedala Con le bra Ciao Io sono il mio Aspettate Devo prendere una tossa Che non capire Allora Si illumina A led Praticamente Si illuminerebbe Così Allora Spiegliamola Si illumina Ma se non si illumina Però Ci vuole Una cosa Qua Allora Questi Minions Che ha Questa Cosa Che ci vorrebbe L'adastatore Perché è una spina Americana Certo E quindi Noi hanno uscito L'adastatore Non è Non è Illuminare All'ed Guardate Quanto Bellino Guardate Troia Voglio All'illuminare Adesso Si può Ecco Sono Sono Ok, andiamo avanti, Ria! Ma perché io non ho alcuna cosa che voglio? Ultima cosa che si illumina! Matti! Ah, mi ha dato la sua fila! Ultima! Questa! Lovina! Questa cosa! Questa cosa! Questa cosa, se non la vuoi! Vabbè, questa cosina è molto bellina, quindi se non la prendete su questo sito, non state bene con la testa! C'è, no! Se non la prendete voi non state bene con la testa! Allora, se non so pure dove andate inizio! Allora, se non so pure dove andate inizio! Ovvero? Avrò! Penso che dalla foto l'avrete capito! Ovvero? È un led! Ha qualità! La metti? Allora! No! C'è questa pallina? Dai! Ci sono tutte le regno! Ci sono tutte le regno! Ci sono tutte le regno! Ci sono questi! Dai! Ci sono... C'è questo! E poi qua... Ora ve lo faremo vedere come si accende! Ecco! Dobbiamo provare prima! E poi poi esce questo che poi voi con questo dovete legarli e attaccarli al lavoro! Allora! Ok! Ora li accendiamo! Ecco! Aspettate! Allora! Ci servono qualcosa? Eh! Se non si caccia questa pallina mia è rispettito! E spettate! Allora! Guardate qua! No! Lascia! Eh! Il nostro mago... No! Lo accendere! Lo accendere! Allora! Guardate qua! Lo accendere! Un... Uno! 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 Due! Tre! Tre! No! Spegniamo la luce! Spegniamo la luce! Spegniamo la luce! 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 Spegne! Come spegne? No! Si fanno niente da un spark! Ok! Come si accende? Come si spegne? Non mi ricordo come si spegne! Guardate, è troppo bellino proprio! Perché praticamente tu... Vabbè, voi non lo vedete però è in cielo un po', no? Sul soffitto! È tipo una cosa troppo bella tipo tutta disegnata, no? E... Guarda! Oh! Questo! Bellissimo! Cioè, guarda! Cioè, guarda! Capo! Ah! A te! Cioè, guarda! Cioè, guarda! Cioè, guarda! Cioè, guarda! Cioè, guarda! Dimmi tu, chi è la maga migliore! E io! Voglio farlo anch'io! Dai, per favore! Bebe! Ma è una volta! No! 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 Non lo faccio vedere! andiamo avanti ma io voglio passarlo questi cosini qua tagliamo un po' da questo male no questi non sono quelli da tuoi stai zitta sono quelli che vuoi perchè devo dire a me sono questi forse non li vedete perchè stai in bianco infatti quando sono usciti vabbè ve ne caccio uno vabbè mi ai faccio uno anche io no a te non ti piace ma io li faccio uno no dai Giulia , un giro buona buona abracadabra farmi uscire una palla allora ora vi do i modi per attaccare dove attaccare questo uomo allora attaccate in testa allora aspettate faccio vedere guardate qua così si attacca così guardate sono fiocco di neve e renna io mi chiamo renna fiocco di neve aspettate me lo metto qua aspettate ok ora se non bevere è perfetta mentre giurisci niente questa bollina vi faccio vedere i rimanenti allora facciamo questo che bello allora c'è questo c'è questo che ha un braccialetto che io già avevo l'anno posto però poi non lo trovo più non ce l'ho più e allora ne ho preso un altro guardate quanto è bello ma se ti mette al volso perché non lo so se è un braccialetto un braccialetto un attimo un braccialetto io sono babbo natale renna fiocco di neve poi vedremo cosa sarò oggi allora poi questa panna ha tante c'è ferma questi voi non sapete cosa sono questi ora li scoprirete e direte vabbè queste sono la meraviglia di tutte le meraviglie perché sono meraviglia 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 però le potete vedere sono sempre scopri piccolini non me ne fregano allora ci sono dei ciondolini questo che è un biscottino un biscottino con delle decorazioni di natale un alberel allora solo tipo in un panino dovrebbero attirare l'attenzione col panino dovrebbero assomigliare al panino di zenzero e praticamente un altro come si chiama pupazzo di neve pupazzo di neve poi c'è una minua di panino di zenzero telecon non me non so dove lo devo dire ma come è successo vabbè telecon e dai telecon non tieni fiacco di neve telecon no Giulia così fiocco di neve 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 poi le ultime due cose ovvero l'alberello di natale e l'alberello di natale ok poi escono questi filetti qua che sono elastici elastici e poi ne costano uno giusto per fare io voglio uno giusto anzi io voglio il labberello io voglio fai i denti io voglio qui e basta uno tutto ah vuoi prendere solo uno ne dobbiamo mettere bello vediamo sotto le gare se non le avevo legato già ha 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 allora alla mia mi piace il bello no non abbiamo likes yen haller fai ha l'epo fai ma ecco qua ah ecco qua fare ate fai fa ah 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 non mi sento mai valire da ridere basta allora ho gli evitare basta Giulia continuo braccialetto che riesce ora sono anche un panno di zenzero questa è una panna totale si ma io sono anche un panno di zenzero no ma tu sei una panna totale spieghi tutto esatto bravo allora non ho giudico poi ho gli evitare 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 ultime cose ma non meno importanti che sono ho gli evitare 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 a vero si chiamano pupazzo di neve e poi pupazzo di neve non dovrebbe avere sciarpa bottoni perché pupazzo di neve e di neve ecco perché si chiamano pupazzo di neve e di neve no? poi c'è il 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 la renna Ma questa è una rena o un cane? E' insomma più fuori da Neli Questo secondo me che è una rena Sì è una rena Sembrava un cane Guardate com'è bello Babbo Natalizio Babbo Natalizio Babbo come lo potete chiamare Santa Claus Lo potete chiamare Come si chiamava? No è bianco dietro Bianco dietro Ah, l'effetto bianco! Poco Luthos! Oh, Luthos! No! No, Popo! Aspetta! Vabbè! Aspetta! È una special di Papo Natale, però è una special di Papo Natale da Rocco, eh! Lei non ha mai visto come mi è uscito? Ma è uscito! Che si chiama? Poppo Legno! Oh, vabbè! Poi ce ne sono altre! Ebbene, ragazzi! Questo è il video! Spero che vi sia piaciuto! A me è piaciuto tantissimo! E spero che vi sia piaciuto! Iscrivetevi a Instagram MargieGiuliaKawaiiReal E su Facebook MargieGiuliaKawaii E su Facebook MargieGiuliaKawaii Su Facebook MargieGiuliaKawaiiReal Il mio nome è MargieGiuliaKawaii Il mio nome è MargieGiuliaKawaii Il mio nome è MargieGiuliaKawaii Fallsop! Va soio a voi MargieGiuliaKawaii MargieGiuliaKawaii Vi adoriamo! Però voglio prendermi un asfizionale Quindi devo farle Vabbè, ciao ragazzi Ciao, ciao Ciao, ciao Buongiorno Ciao, ciao Ciao ragazzi Ciao ragazzi